L'Infoma Day qua a Reggio Calabria, siamo con il dottore Stefano Molica. Questa intanto è una giornata estremamente importante, nel caso specifico io cercherò di tratteggiare quelli che sono stati i progressi nell'ambito di una patologia specifica, la leucemia linfatica cronica, che forse è una di quelle patologie considerata un tempo la cenerentola dell'ematologia, oggi gode di molte opzioni terapeutiche, tante opzioni terapeutiche con farmaci biologici e realmente l'aspettativa di vita dei pazienti si è decisamente trasformata. Quindi passiamo da una patologia che si curava con pochi farmaci e che aveva un trattamento assolutamente palliativo, oggi ha terapie che sono in grado di dare delle risposte profonde anche a livello biologico e quindi con un miglioramento della quantità e della qualità di vita dei pazienti. E naturalmente il progresso continua perché il progresso implica l'utilizzazione di farmaci sempre più efficaci, sempre meno tossici, considerando anche che è duplice un po' l'impatto che noi vogliamo determinare nei pazienti, l'impatto sulla quantità ma anche sulla qualità di vita dei pazienti stessi. Grazie a tutti!